Io, buongiorno, ciao a tutti, siamo qua a Padova in Prato della Valle, la festa, un mercato biologico, vero? Sì, Giorgio Chiodi, perché non potevo mancare in un contesto così bello, vicino a degli amici che parlano solo di natura, che parlano di cibi veramente con i quali ci si può curare qualsiasi patologia, che parlano della medicina, dei farmaci, come si deve parlare del diavolo, e da allora sono nel mio elemento. Cosa hai in mano, Giorgio? Sono i due libri, il primo è La vera prevenzione, scritto da Giorgio Chiodi, diciamo che qui ci sono 30 anni di esperienza per come evitare non solo il diabete, ma su tutte le patologie, perché le patologie hanno tutta una genesi comune che viene dalle cattive digestioni, cattive abitudini alimentari, soprattutto cattivi alimenti, eccesso di alimenti e quant'altro. Il secondo cervello che è la nostra pancia, quello ne soffre e a un certo punto non ce la fa più. cominciano con le infiammazioni, poi l'infezione, si va dal medico, medicinali, peso il tacon che il buso, come ti dice Venezia. Peso il tacon che il buso. Peso il tacon che il buso. Il secondo libro? Secondo libro. Vincere il diabete si può. Sì, diciamo che il secondo libro da Giorgio Chiodi, sempre, dove narro cosa ho fatto per vincere il mio diabete. Da quant'è? Quindi il tempo ero diabetico? Io ero diabetico grave, tipo 2. Grave di tipo 2? Tipo 2, attenzione, che è il 95%. Quanto tempo fa? Fino a tre anni fa. Fino a tre anni fa? Certo, io sono stato diabetico per 30 anni. 30 anni diabetico già. Pesavo 113 kg. E adesso mi sembra un po' meno. Peso i 74 kg. Quindi 40 kg. Esatto, senza far fatica. 40 kg senza fare maratona di New York. No, è bastato semplicemente assumere i cibi nelle quantità dovute, ma soprattutto i cibi che ci volevano per il mio diabete. Vale a dire frutta e verdura cruda. Frutta e verdura cruda? O cereali, ma solo integrali. Ma perché non usa i pentoli, Giorgio? Perché frutta cotta perde le qualità? Non è perché il gas costa, caro, ma è perché la frutta cotta purtroppo non ci serve a nulla se non aiutare l'evacuazione. Ma mangiando verdura e frutta... Perché le vitamine, oltre a una certa temperatura... 60 gravi spariscono. Anche a me non me sa. Volatizzano. Comunque... Bravo Giovanni, vedo che le sa le cose. Ecco, e cosa mi dici dei derivati animali allora? Carni, latticini... I derivati animali io li concepisco solo se tornassimo in dieta di 10.000 anni, dove la persona correva presso per due giornate ad una lepre per potersi cibare di quella lepre. Bisogna correre forte? Bisogna correre forte. Quindi insomma, per andare al macellaio e spendere 10 euro... Io non so neanche cosa sia... Unito macellaio? Macellaio. No, proprio in macellaio. No, poveretti. Poveretti devono lavorare, basta mangiare poca semmai. Ma vorrei dire che quando si comincia con la verdura e con la frutta, lei non sente più il bisogno della carne. Perché la fame viene saziata. Ma viene saziata da sostanze che hanno dei gusti speciali. Perfetto. Va bene. Giovanni, provi anche lei. Ma no, ma io sono del settore, quindi io sono stato... No, no, intendevo dire provi a convincere le persone che conosci, i familiari... Ma siamo qua apposta perché questo qua lo vedono... Ah, bene. Questo filmato lo facciamo vedere a più persone possibili perché sono stato contento di dirti conosciuto, Giorgio. È il piacere di essere mio. Speriamo insomma che altre persone possano leggere i suoi libri. Diciamo che questi libri sono... Magari incontrarci, arrivare in mercato, in mercatino qualche conferenza perché Giorgio... Sono invitato spesso alle conferenze, sono invitato spesso a tante conferenze e ci vado volentieri. Non costo una lira, perché mi vergognerei se la mia opera costasse. Mi spiace che i libri costino, li regalerei, ma siccome li fa un editore, lui vuole qualsiasi. Ma io spero che ne renda milioni, migliaia, milioni. Dipenderà tutto da chi sa capire il mio messaggio. Speriamo che lo capiscono i nostri amici di Montagnana, del negozio biologico e anche di tutta Italia. Vero giù a trovarti a Montagnana. Va bene, grazie, ciao. Grazie a te, Carlo.